La scena più forte è una scena piuttosto surreale ed è quando il personaggio di Evelyn cammina e viene avvolto dalle falene e c'è una sequenza di incroci di falene, di ali, di farfalle eccetera eccetera. La prima a cui ho pensato è il 2001 di Sè nello spazio, il lancio dell'osso con la musica fantastica di Strauss e la seconda per amore mio di Fellini è il passaggio del transatlantico Rex in Amarcordi in cui tutto si ferma nella nebbia. Una cosa che mi piacerebbe fare, non necessariamente la più importante, ma adesso proprio una cosa completamente diversa vorrei fare un film o di fantasy o fantascienza ed essere un personaggio di quelli fantastici tipo un elfo, una cosa strana e fare cose molto, diciamo, atletiche. C'è una cosa proprio completamente diversa per giocare. Ho sempre immaginato chissà che divertente lavorare sul set di guerre stellari piuttosto che divertimento. Grazie.